Tre fucili e una pistola con la matricola cancellata, un silenziatore, decine di cartucce e due fucili ad aria compressa. Il piccolo arsenale è stato rinvenuto e sequestrato dalla polizia Catanzaro Lido. Le armi sono state scoperte durante una perquisizione effettuata dagli agenti del locale commissariato nell'abitazione di Vitaliana e Gaudenzio Tassone, 79 e 40 anni. I due uomini sono stati fermati con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. I fucili, la pistola, una calibro 7,65 e le cartucce erano nascosti in casa, in un armadio e in un terreno vicino all'abitazione. Stiamo verificando la provenienza e abbiamo anche delle ipotesi investigative tese a stabilire l'eventuale utilizzo.